Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Per magari stimolare in voi un po' la curiosità in questo titolo, perché è un titolo piuttosto complesso, non è ancora in italiano, non so se lo sarà, perché se vedete le lingue non sono... È un po' grezzino a livello di menu, ma secondo me ha delle idee veramente interessanti. Allora, ricorda per alcuni aspetti un city builder, un rimworld, ma con delle aggiunte parecchio interessanti. Quindi ripercorreremo la storia dell'uomo, della società antica, primitiva, non moderna, e nei tutorial iniziate a capire un pochino come funziona. Abbiamo l'operazione di base, controllo telecamera, cose del genere, il combattimento, l'addomesticamento degli animali, la cura medica e la riproduzione e l'eredità. E quindi praticamente la possibilità di passare le conoscenze alle generazioni future da un personaggio all'altro, in pratica da padre a figlio e così via, al figlio del figlio e via così. Con la possibilità di scrivere delle tavolette di pietra in modo da mettere nero su bianco le conoscenze. Iniziamo con una nuova tribù, iniziamo in modalità easy, il contatore delle invasioni lo teniamo basso, vabbè, è solo una dimostrazione insomma. Qua abbiamo i nostri personaggi, e vabbè, abbiamo random, possiamo andare a cambiarli, ed è molto importante avere uomini e donne, perché ne determineranno appunto la presenza di uomini e donne, le future dinastie, le future nascite. Potremmo bloccare le nascite, incentivarle, insomma ci sono diverse cose da vedere. Intanto il gioco sta caricando, come avete potuto notare, non è evolutissimo, diciamo come grafica a livello di menu. Il gioco ha una gradevole grafica con la possibilità di ruotare, quindi non è un 2D, è una specie di 3D, con il mondo, con le cose da fare. La cosa molto interessante, vabbè, adesso io lo giochicchio un po', vi faccio vedere, ad esempio, loro andranno, possiamo fare come in tanti altri giochi, cliccare e dire, ok, gathering resource, e loro sanno che li dovranno andare a tagliare, così come dovranno andare a raccogliere le varie cose. Qui abbiamo uno stockpile, possiamo dirgli di andare a creare un bonfire, il bonfire è bellissimo da vedere, perché, ve lo faccio vedere subito, noi creiamo il bonfire, possiamo fare anche i sedili, i sedili sono proprio, ci stanno proprio, ce ne stanno tanti intorno, e ne mettiamo magari qualcuno. Non mi ricordo adesso che cosa chieda, penso una roccia o qualcosa del genere, insomma. Qua sulla destra abbiamo la possibilità di mandare avanti o indietro, avanti o indietro, avanti più o meno veloce il tempo, la possibilità di vedere i tetti e cose del genere. Il fuoco è molto bello anche come animato, ma una delle particolarità, vedete questo menu, vi dice qualcosa? Ecco, è un menu tipico di tutti i giochi, ma la cosa interessante è che se noi andiamo a vedere, ad esempio, il building, noi possiamo, ok, aumentare la priorità in base alle persone, insomma, dire a uno piuttosto che l'altro, fai più spesso questo piuttosto di quest'altro, quindi abbiamo dalle abilità mediche di crafting, di allevamento, coltivazione, raccolta, preparazione dei cibi, ma la cosa interessante è che se noi clicchiamo sulla priority qua in alto, vediamo che abbiamo più cose da fargli fare, quindi mettiamo il caso. Io adesso qua vado a costruire una crafting table, io la crafting table la piazzo qui e loro iniziano a crearla e se io vado su assegna lavoro e vedo building, vedete che qua ci sono quelle che io ho attualmente in corso e posso andare a mettere più o meno le priorità di quello che sto facendo, la stessa cosa la posso fare anche per il gathering delle risorse, posso dirgli, sto seguendo quello che mi dice il tutorial, raccoglimi magari 80 erbe, priorità ad averne 80, 70 e così via. E qua vedete che abbiamo l'erba, i rametti, la legna, la pietra focaia e la pietra e poi così via, insomma andranno avanti. Così vale per ogni cosa che noi stiamo andando a fare. Cliccando su un personaggio c'è la possibilità di vederne la scheda con le relazioni relative che poi, diciamo, cresceranno e anche qualora noi cliccassimo su un bambino, adesso io non so se ci sono bambini, devo ancora prendere ben confidenza con le persone, insomma con i vari menu, però qua vedete che abbiamo un grafico che ci dice che è una donna, non è un bambino, è un adulto e poi diventa vecchia, ha 14 anni, 4 anni e anziana dopo i 14. Siamo proprio tribù ultra primitive. Possiamo vedere quello che hanno addosso e possiamo anche togliergli, dirgli ritorna, quindi metti via il pugnale e vediamo che qua possiamo consentirgli o meno, togliendo la spunta, la gravidanza perché loro poi si sceglieranno un compagno, faranno una sorta di matrimonio tribale e poi avranno figli e quindi tutto questo metterà. Qua in alto invece abbiamo l'assunto di tutti gli ingredienti che possediamo, che attualmente abbiamo delle bacche e della carne, abbiamo delle pozioni, insomma sono delle erbe, abbiamo delle lance, una corda, un coltello, un piccone, insomma abbiamo quello base. Food focus per specificare su che cosa focalizzarsi, cioè per vitalità o int, perché il cibo dà due tipi di caratteristiche e gli possiamo dire influenza più questo, cioè prendi più il cibo di un certo tipo o entrambi, uno o l'altro. E qua abbiamo le abilità della persona. Queste sono le grandi linee, quelle che sono le nostre persone che sono tutte più o meno in età adulta, hanno tutti la stessa età. E adesso loro iniziano a, vedete che stanno aumentando anche di abilità, man mano fanno le cose, adesso questa persona qui, queste due persone qui stanno portando le cose. Ci sono un po' di scritte a schermo che magari possono dare fastidio e si vede che è grezzino come cosa, ma anche andando a vedere gli screen su Steam sembra essere davvero un gioco ultra profondo, perché? Perché possiamo andare a fare anche la shed, che è la tenda. Quindi io la piazzo qui e vedete che poi viene costruita e quindi verrà costruita e lì sotto ci potremo mettere i primi letti. Questo è la base. Guardate poi, magari qua li stiamo vedendo tutti, tutti gli oggetti. Weapon rack, meat rack, dove tutti gli stockpile in pratica. La panca delle erbe, il tavolo del tessitore, quello per fishing tool table, per fare le canne da pesca, il totem di guerra, perché poi si può combattere. Perché se noi, adesso io ho creato questo, posso dirgli creami dei coltelli, creami delle accette per tagliare gli alberi. E loro iniziano a crearlo, ma se io clicco su una persona e clicco qui, posso dire vai a craftare. Quindi posso andare a prendermi la persona che ha magari più abilità di crafting e dirgli di farlo. Non me lo fa più fare adesso, credo, per il semplice fatto che si stanno già impegnando per conto loro ad andare a fare quel lavoro. Quindi io dovrei a questo punto spostare tutti, mandarli via. Vedete che c'era già lei che ci stava già andando, io non avevo cliccato. Posso fare, dirgli di creare dei picconi, oppure posso dirgli mantieni, mantieni ne due. Quindi quando i picconi o le accette in questo caso vengono consumate, non ce ne sono più, tieni ne sempre due disponibili e tornerà sempre di lavorare. Intanto stiamo lavorando anche qui, servono delle erbe, servono dei rami e inizieremo a costruire la nostra cosa. Food management, qui abbiamo la possibilità, appunto quel menu che vi dicevo aprendo qui, scegliendo questo menu qui, se usare VIT o INT, qua lo facciamo ma un po' più in generale. E abbiamo gli ingredienti in ordine in cui essere mangiati in pratica dal formaggio che è il più elaborato tra tutti e di conseguenza gli altri e possiamo andare a spostarli. Questo è il menu del cibo. Questo credo sia animals, credo sia tradotto male, no? Sì, animals l'hanno tradotto male, perché il gioco è, credo sia cinese, credo. Comunque orientale, perché su Steam vedete anche delle schermate con una lingua orientale. E quindi qua andremo a amministrare gli animali, faremo a copiare anche gli animali, insomma, e creeremo il nostro allevamento. Vedete che io adesso clicco su questo, lui sta già andando là, io posso cliccare su una persona, questa ad esempio, star gathering, io posso cliccare e dire di andare in un punto. Adesso non me lo fa, sì, run here. E poi ci saranno anche ovviamente le guerre, adesso gli ho detto harvest, così continuo a fare quello che... E vedete che è veramente carino il fatto di avere anche la più bassa temperatura tollerata dal personaggio, quindi bisognerà fare attenzione anche alla temperatura che vedete qua, che sono 15 gradi. Siamo all'anno 1, primavera 1, e così via, e andiamo avanti. Ed è 13,00. Qua abbiamo la possibilità appunto di togliere i tetti, quindi di vederli o meno dove coprono perlomeno, qua li facciamo sparire, e vado su build e faccio magari un molto utile, qua scrivo bed e trovo il bed. Poi c'è anche il bed del paziente, quindi ci diventerà piuttosto ampio il discorso di gestione. E abbiamo poi, vabbè, gli animals, le quest che non le abbiamo ancora, abbiamo al... Ci sono quest sull'alleanza, sul commercio, che non abbiamo ancora, non ne stiamo facendo. Il gioco resterà in early access per un anno o più, non so il prezzo, ma sarà sicuramente interessante, calcolando che ha già notevoli contenuti. La cosa interessante è che adesso sono le 15, quando si fa la sera, fate l'acqua che è fatta molto bene, quando si fa la sera, accenderanno il fuoco e si metteranno tutti intorno, e tra l'altro sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, mancano 2, 2, 1, e ne mettiamo un altro qui. Metteranno tutti i... Standing torch, per fare luce, e così via. Wall, le mura, perché per faremo le case, insomma, ci sono tutte le cose, le stone tablet. La conoscenza deve essere registrata per prevenire la perdita quando qualcuno muore. È anche usato per raccontare storie dei bambini, perfetto. E qui, una cosa che andrebbe approfondita, nel senso, non prendete questo video come un tutorial, né come un gameplay, è un crea la curiosità. L'Ancestral Will non lo conosco molto, ma dovrebbe appunto legarsi anche alle tavolette. In pratica è una sorta di ricerca fatta in modo diverso. Perché qua dobbiamo costruire un lobster trap, craftare una trappola per i crostacei, fare una rete da pesca e un fish pond, che non so cosa sia, e ci riconoscerà con quello. Creations, invece, sono le scoperte che noi faremo nel corso del tempo. Quindi possibilità di scoprire il ponte, che sarà scoperto a breve. E questo, onestamente, è nuovo perché non lo conoscevo, e praticamente ci darà la possibilità di, andando avanti, di scoprire nuove cose. Quindi abbiamo già inventato i vestiti invernali, scopriremo i ponti, poi il vasaio, le giacche per la pioggia, la possibilità di scrivere le nostre scoperte. Adesso io vorrei fare una cosa qua, voglio vedere se posso fare quello per il fishing, fishing tool table. Vediamo come funziona, lo piazzo qui, vediamo se riusciamo a farlo. Posso dire a uno di loro di accendere il fuoco, eating, run here, perché la sera mangiano. Adesso vedrete che accenderanno il fuoco e si metteranno tutti intorno. Guardate che bello. Cioè, questa è veramente una... Anche i suoni sono molto... Ho disattivato la musica perché è lo sviluppatore, ma ha segnalato che c'erano delle botte di copyright in modo del tutto ingiustificate. Quindi ha detto, disattiva la musica se fa il video. Ed è molto interessante. Adesso poi c'è credo sia il save, poi andranno a dormire, ma il problema è che hanno letto solo in due. Quindi, as fit the board, a bed. Eh sì, perché si sono presi due letti. Questo è un uomo, questo è una donna, un uomo-donna, benissimo, perfettissimo. Quindi diamo tempo al tempo. Anzi, sarebbe meglio tenere d'occhio lei e vedere se a breve farà nascere qualcuno. Adesso vedremo subito che passano 40 giorni, sono un anno, 10 giorni, una stagione. Quindi passeremo lo spring 2, secondo giorno. Infatti vedete spring 2 dei 10 giorni di questa stagione. Perfetto. È interessante perché poi la gravidanza appunto richiederà tot mesi. No, perché poi qua, nel caso in cui fosse incinta, ci sarà il tempo restante alla gravidanza, alla nascita. Quindi molto interessante. Poi, search for herbs. La possibilità di ricercare le erbe, ma onestamente devo ancora approfondirlo e si vedrà. Poi, sicuramente, come lo vedete adesso, non sarà come il gioco uscirà. È un gioco che se dovesse chiedere 20 euro, secondo me li potrebbe anche valere. Dovesse per caso costare 6, 8, 10 euro, 15 euro, sarebbe secondo me un affarone, se amate i giochi di questo tipo. Abbiamo anche la world map e direi che abbiamo visto abbastanza perché di roba ce n'è e calcolando che è solo un early access sembra molto interessante. Questo è una sorta di debug. Abbiamo altre impostazioni, vabbè, qua le classiche di soluzione così. C'è la dev mode che credo sblocchi dei codici, degli aiuti. Quindi, intanto acceleriamo il tempo così diamo un'occhiata se effettivamente la signora qui... Vedete che loro ripristinano anche l'energia dormendo perché... Meno 2 lei. Eh sì, lei è più resistente, però si ha presa la tenda. No, comunque sembra non avere niente. Però ho fatto un po' di esperienza in crafting e in fishing e pian piano poi, vabbè, possiamo rinominarli. Possiamo dargli un... Cosa stanno facendo? Beh, intanto penso che abbiano costruito... Ok, questo. Posso fargli... Sì, giustamente. L'arpione. Mantienine almeno... 3. Così almeno ci facciamo il cibo. Ok, intanto vedete che sta facendo l'arpione. L'arpione lo prenderà poi qualcuno. Sta passando un altro giorno perché andando per 8 il tempo passa piuttosto rapidamente, quindi... Eh, ok. Non so chi pescherà, ma voglio andare a vedere se c'è modo per il cibo. Fishing. C'è qualcosa di fishing. Priorità. Non so adesso le loro relationship. Voglio vedere se i due che dormono qui hanno una relazione. Perché in effetti potrebbe essere interessante capire questa cosa prima. Aspettate che clicco sul letto. Lui. Relations. No, non sono in una relazione. Tra l'altro vedete che qua c'è mentor. Lui potrà... Ed è molto interessante perché se è un bambino qui ci sarà scegli un maestro. E quindi sceglieremo il mentor. Ma in caso di vecchio del villaggio, noi potremmo scegliere di insegnare quello che lui nella sua vita. E qua vedete che l'immagine è altissimo. Sarà molto difficile che uno raggiunga mille in crafting. Ma qualora avesse un mentor potrebbe insegnargli tutto quello che sa e quindi aumentargli la base di partenza. Ed è una figata. È assolutamente... E qua lo vedremo anche dal titolo del video. Lo definirei assolutissimamente innovativo come tipo di gioco. Perché? Perché sì. Perché... Adesso, loro non sembra che stiano sviluppando una relazione, credo ci vorrà del tempo. Però questa signora qui sta pescando adesso. Quindi stanno usando gli appioni. E quindi stanno recuperando il cibo. Potrei dire anche di raccogliere questo. Sì, vabbè, stai colpendo la terra, ma va bene così. E ovviamente poi ci saranno anche gli animali, che qua potremmo domesticare. Infatti vedete che c'è un animale. Ma se io prendessi uno di loro e clicassi sulla pecora... Ant Cannot Ride. Ok, no. Non lo possiamo cavalcare. E niente. Il gioco è assolutissimamente interessante. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, che sono veramente curioso. È un gioco che mi ha sorpreso. È un gioco che non ho visto pubblicizzato. Mi è arrivato proprio il codice da Discord direttamente dallo sviluppatore. Mi ha detto, tieni, provalo. Mi raccomando, se ti piace faccio un video senza chiedere nulla, senza averlo neanche mai visto. E devo dire che è assolutamente sorprendente quello che mi piacerebbe dire e che dirò anche a lui. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. E noi ci sentiamo in un prossimo videogameplay. Alla prossima e ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.